Vince l'edizione 2024 Antonio Mazziale. È stato il molisano Antonio Mazziale a vincere la seconda edizione di Arezzo e le sue vallate, concorso di pittura estemporanea svoltosi domenica scorsa all'interno della fortezza Medicea. Il pittore ha dipinto l'opera Colori di Arezzo, una veduta originale dei campanili e delle torri del centro storico. La manifestazione, curata da Mariangela Baldi e organizzata dall'Associazione Culturale Arteco, ha permesso di consegnare tanti premi e un riconoscimento speciale a Renzo Regoli che potrà esporre per una settimana al Podere degli Olmi di Foiano della Chiana. Tanti gli applausi del pubblico anche per le esibizioni del coro polifonico femminile Voci Insieme di Arezzo e per l'ensemble Piccole Scintille, presenze che insieme ai pittori hanno trasformato la fortezza Medicea di Arezzo in un polo delle arti per tutta la domenica.